Partendo da questo presupposto, quali sono i nuovi trend evolutivi a livello europeo? Ad esempio, sempre guardando come le applicazioni di cui ho parlato precedentemente modificano l'incremento di banda, se prendiamo ad esempio due punti che sono a Francoforte e sono a Amsterdam, che sono due punti in Europa importanti dove avvengono molti degli interscambi del traffico peer-to-peer, quindi fra utenti, vediamo che negli ultimi sei mesi il traffico nel nodo di Amsterdam aumenta del 20% di mese su mese e a Francoforte del 25%, quindi vuol dire che siamo su incrementi di traffico nell'ordine del 300% all'anno, quando solo 12 mesi fa parlavamo di incrementi del 100% all'anno o poco superiori e valutando come queste applicazioni stanno sempre più prendendo piede nella vita di tutti i giorni e in uno strato di popolazione sempre più ampia, quindi non solo quello dei giovani, ma quello fino ai 45-50 anni e andando anche oltre, possiamo indicare che l'incremento di banda di anno su anno sarà nettamente superiore anche ai trend che si vedono attualmente in alcuni punti d'Europa e quindi ovviamente c'è una richiesta di incremento di banda estremamente elevata. Ma questa banda dovrà supportare delle applicazioni che suppongo di alta qualità e di alto livello, perciò che tipo di banda deve essere? Ecco, io ritengo che ovviamente è importante che la rete o le reti nazionali diano banda, però non è sufficiente, perché devono dare una banda intelligente. Cos'è l'intelligenza della banda? Cos'è l'intelligenza della rete? Diciamo che il concetto, se potrebbe essere da un punto di vista tecnologico abbastanza complesso nella sua realizzazione, da un punto di vista funzionale è molto semplice, cioè l'intelligenza è quella cosa che permette alla rete di poter, con un concetto di rubinetti aperti e chiusi, fornire quelle risorse della rete di banda e di qualità di servizio che servono all'utente in un certo momento, in un certo luogo, con una certa modalità di collegamento alla rete e di poter garantire la qualità di servizio. Anche qui, che cos'è la qualità di servizio? È una cosa molto semplice perché nella rete, come abbiamo detto, viaggiano informazioni video, viaggiano informazioni voce, viaggiano informazioni dati, viaggia la sicurezza e viaggiano applicazioni di information technology. È importante che la rete, oltre che dare la banda appropriata ad ognuna di queste applicazioni, ovviamente tratti nel modo adeguato queste informazioni. In Italia, da qui ai prossimi dieci anni, in che modo può arrivare a raggiungere questi trend? Che queste reti possano fornire alla nazione un vantaggio competitivo che non può essere colmato da altre attività o altre cose che si possano costruire nella nazione. Ritengo che questo tipo di reti, nuove, con intelligenza e tanta banda, siano uno strumento al pari delle autostrade, delle ferrovie, delle metropolitane, che sono fondamentali per lo sviluppo futuro del paese, di qualunque paese. Ritengo che come obiettivo ci dovremmo porre quello di essere più avanti, fra 10 e 15 anni, rispetto agli Stati Uniti, al nord Europa e alle nazioni quali la Cina e l'India, che hanno dei piani nei prossimi 10-15 anni estremamente sfidanti, dove pensano di portare centinaia di megabit alle famiglie e decine e decine di gigabit alle aziende. Io penso che come Italia dobbiamo assolutamente avere un piano più ambizioso per poter ovviamente stabilire una leadership nel valore aggiunto e nella competitività estremamente avanzato se vogliamo veramente rimanere nello scenario mondiale.